ciao a tutti ragazzi io sono franzo oggi siamo in questo nuovissimo video è un casino di tempo che non caricavo un video non so quanto tempo però ho avuto un sacco da studiare ho dovuto fare di tutto di più e ho cambiato gli occhiali come potete vedere e mi piacciono un sacco anche perché hanno una piccola particolarità ma non vi faccio vedere adesso perché vorrei spregarmi con il video oggi tratteremo Harry Potter che tutti voi conoscerete spero Harry Potter questo ragazzino che frequenta la scuola di magia di Hogwarts ed è abbastanza bravo però diciamo compie determinate avventure che io ho letto i libri ma anche guardate i film perché volevo essere al completo allora riguardo il video di oggi parleremo di Severus Piton Severus Piton è diciamo un pochino un antagonista di di Harry perché sembra che lo odia a morte ma in realtà non è che li voglia bene però lo protegge quasi sempre cerca sempre di proteggerlo perché amava sin da piccolo la madre di Harry però prova l'odio verso Harry perché assomiglia al padre e il padre lo insieme alla sua banda di amici lo prendevano sempre in giro dato che aveva questi capelli lunghi e unti e il naso molto adunco molto sporgente ma mi è sempre piaciuto il personaggio di Severus Piton è forse il mio personaggio preferito dopo Lupin che è un insegnante di difesa contro arti scura che Severus Piton mi interessa molto la sua bacchetta e anche la materia che insegna lui mi attrae particolarmente pozioni ovvero quindi oggi parliamo della sua bacchetta è arrivato il pacco poco poco fa e sono felicissimo perché l'aspettavo da una vita è successo un casino vabbè non ve lo so raccontare comunque andiamo ad aprire il pacco questa è la scatola ho preso quella originale con il con il simbolo di olivander e la bacchetta quindi andiamo ad aprire la scatola molto bello qua troviamo la scatola presenta questa diciamo questa nastro particolare e questi veli che coprono la bacchetta quindi che sono molto particolari abbiamo il tesserino di harry potter che indica che è originale e all'interno troviamo a parte la bacchetta che in questa fessura ma anche questo cuscinetto che è morbidissimo è veramente o ci dormerei quasi anche se un po piccolo quindi adesso andiamo a tirare fuori la bacchetta eccola qua molto molto bella mi piace un sacco allora questa bacchetta presenta nella nell'impugnatura dei vari disegni o comunque in rilievo si disegni in rilievo che la caratterizzano per bene divisa da questo cerchio possiamo dire così e poi è nera molto bella e più pesante di quella che ho io perché se non lo sapete ho già questa bacchetta qua questa bacchetta me la sono fatta auto costruita è quella di draco malfoy che presenta questi anelli dell'impugnatura dove appoggiare il pollice ecco che ho creato con la colla caldo e qua l'impugnatura nera che si va a sfumare verso il marrone scuro anche se è un marrone molto più chiara di quello che è in realtà e questa qua l'ho fatta io praticamente con utilizzando lime carte vetrate eccetera sono riuscito a creare questa bacchetta che è molto più leggera di questa acqua di severus piton che mi piace un casino è molto bella ma è questa bacchetta qua è di legno di betulla 12 pollici ed è molto rigida infatti è molto dura non riesco così a piegarla comunque è molto 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 maneggevole forse una mano un pochino grossa rispetto all'impugnatura però chi se ne frega l'importante è avere la bacchetta e fare ciao ciao ed è molto molto bello e interessante altri acquisti che ho fatto ultimamente ho comprato due libri sempre della saga di harry potter uno e allora i libri che ho comprato ultimamente sono questi due che questi qua che sono usciti ultimamente allora partiamo dall'ultimo della saga di harry potter ovvero la maledizione delle rede che è tratto da un'opera cioè da una rappresentazione teatrale che la rolling poi ha trascritto sul libro l'ho già letto non è che mi piace particolarmente comunque non l'ho capito a fondo e invece ho preso anche animali fantastici dove trovarli che mi mancava ho visto il film molto realistico cioè molto rappresentato molto molto bene e mi è piaciuto molto di più rispetto a quello di harry potter la maledizione delle rede perché l'ho capito di più è molto più semplice secondo me pensieri molto brevi molto molto bello e se ne volete sapere di più sui film sul seguito della saga su tutto ciò scrivetemelo nei commenti se volete un video a riguardo comunque continuando a parlare della bacchetta è veramente bello cioè per me è un'emozione grandissima avere una bacchetta originale di harry potter e questo qua è uno dei piccoli gadgets che ho oltre a questa ho anche il medaglione di serpe verde è un po' non è veri cioè non è è abbastanza rappresentato più o meno bene cioè non è che sia al massimo della rappresentazione però è molto carino l'ho preso a un negozietto a genova se non sbaglio e ragazzi forse anzi è probabile che io parteciperò all'evento che si terrà da marzo a settembre o no da maggio a settembre mi sembra comunque l'evento che si terrà a milano che riguarda appunto harry potter e non vedo l'ora di andarci cioè veramente una cosa che mi ci voglio troppo andare è uno degli eventi a cui voglio partecipare di più oltre magari non so a contrarre a qualcun altro ma è l'evento a cui voglio partecipare di più ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su che magicamente diventerà blu ricordatevelo perché facendo un po' così diventerà blu quindi se volete altri video su harry potter a me fa piacere portarveli perché è un argomento che mi piace che mi prende particolarmente e potrei anche farvi cioè spiegare le differenze che ci sono tra il libro e film cioè voi non capite quante ce ne sono ed è un'infinità quindi ragazzi noi ci vediamo un prossimo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto seguitemi su instagram e noi ci vediamo un prossimo video ciao